ciao ciao amici oggi sono qua per presentarvi un brand veramente eccezionale stiamo parlando di scarpe stiamo parlando di un brand che probabilmente più di voi ancora e dico per ora non conoscono i più attenti lo avranno sentito in queste giornate dell'ultimo festival di san remo di chi sto parlando ma assolutamente di lei della strepitosa coria menta per tutte le appassionate di gossip probabilmente questo nome ricorderà qualcosa perché fu lei la designer che progettore disegnò diciamo le scarpe per il matrimonio di belè rodriguez ebbene ho fatto il mio primo acquisto by coria menta online e certo perché poi anche in questi giorni è ancora più conveniente e ancora più gratificante perché sono in atto delle speciali promo proprio per far conoscere questo modo di disegnare di creare e di rendere arte un'arte che si può tranquillamente indossare e allora vado subito a presentarvi questo mio nuovissimo e fantastico acquisto allora la scatola ovviamente arriva impacchettata in un packaging da trasportatore e così si presenta quindi una bellissima scatola bianca pulita con il nome il brand il trademate e il logo dentro aprendo ecco questi sono il trekking di spedizione abbiamo anche ovviamente e per prima cosa un ringraziamento nonché una bellissima filosofia del prodotto cioè che poi è lo stesso da una parte abbiamo l'italiano dall'altra l'inglese ma andiamo a vedere queste scarpe allora premetto premetto che lei stessa le indossava i lariblasi in una puntata delle iene strepitose ecco qua questa l'ho già provata ovviamente ed è strepitosa a parte comunque le rifiniture le rifiniture che sono strabilianti un tacco 12 fantastico ma assolutamente comodo e robusto assolutamente e tutta vera pelle mi dispiace per i vegana ma è vera pelle per cui proprio diciamo si indossa di una comodità ma di una comodità è pelle è pelle anche questa pelle laccata in oro e questa è l'altra bellissima creatura ora io vorrei appoggiarvi qua così che possiate vederne meglio eccoci una e una la cosa più strepitosa poi che io c'ho il piedone veramente un piede gigante questo è un 39 però in realtà anche indossandolo sembra molto più piccolo perché solitamente queste belle scarpe col tacco eccetera sono belle con numeri tipo fino al 38 poi diventa una cosa che madonna santa inguardare non si può guardare non si può mettere proprio terribile invece proprio tutte le scarpe di coria menta che appunto ricordo vestono fino al numero 45 quindi vabbè ce n'è per tutti e hanno questa caratteristica oltre a essere comodissime anche con improbabili tacchi stiletto 12 qua rendono proprio fasciano il piede rendendolo più piccolo e più grazioso anche quelli più sgraziati come il mio e che dire io tanto ieri sempre online sono andata a comprarmi un altro paio di scarpe totalmente un altro genere queste sono le illari anche eventualmente se qualcuno volesse andare a dare un'occhiata ma comunque sono riconoscibilissima mi sono comprata un altro paio totalmente un altro genere e che dire vi aggiornerò non appena mi arriva perché io personalmente non vedo l'ora ecco ci tenevo a farvi conoscere questo brand alla prossima ciao ciao adesso vengo a spegnere